vlog 65 di questo 2023. Dan ha deciso di coccolarmi, infatti mi ha preparato un bagno caldissimo che ho accompagnato con face mask e con tantissimo caffè. Per cena è arrivato il mio momento di mostrargli la mia gratitudine, infatti io ho cucinato qualcosa che da un po' che mi chiedeva. Sono questi burger che faccio in casa in maniera super veloce, li cucino in padella, li accompagno sempre con del pane, il suo con il burro, un bel po' di insalata e naturalmente ketchup e maionese per il principino. Ho anche aggiunto degli smiles che in realtà sono delle crocchè di patate, ho assemblato il burger e questo è tutto.